Ciao, sono Femi Marulli e oggi siamo su Hide the Porn, ovvero Nascondi le riviste Porn. Penso che alcune di queste cose fanno riferimento alla mia vita, quando mia mamma mi probiva di vedere un porno. C'è pure il timer, adesso siamo a 5. Cioè, questo ci ha visto. Signori, volete stare in questo video and, io sto caromai, San Diego Benabeo, Patrick Basileo, Mila Lombardi, Valeria Lombardi, Simone Passeri, Simone Natarelli, Sì, puti puti, ciao. Sì, stai facendo sbruglietta a me. C'è questo ci ha visto, ammalo. Nascondiamo le riviste, nascondiamo le riviste, nascondiamo le riviste. C'è questo ci ha visto. Vabbè, quindi direi che ci vediamo su un gioco.